Il caos è inconoscebile e imprevenibile Tu non sei affatto pronto ad affrontare il dolore che ti infliggerò È iniziato il caos sovrano di Mortal Kombat 1 ragazzi Dobbiamo fermare il titano Avic e subito Se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale Questa era l'introduzione del caos sovrano di Mortal Kombat 1